I allarme e criminalità a Salerno, secondo tentativo di rapine in due giorni in un negozio ed anche stavolta a farne le spese è stato un titolare di un esercizio commerciale o per meglio dire in questo caso di un patronato Enash. Dopo il tentativo di rapine in un tabaccaio di Maricondo nella zona orientale del capoluogo in via Premuda, stavolta un uomo, anche se inizialmente si era pensato a due persone, ha tentato di rapinare un'attività in pieno centro. Il malvivente nella serata è entrato in un negozio in una traversa di Corso Garibaldi di fronte alla sede centrale dell'Inps che porta verso il mare in via Domenico Scaramella minacciando la titolare tra l'altro incinta al sesto mese di gravidanza. Al rifiuto della donna l'uomo ha reagito strattonandola esplodendo anche un colpo di una pistola d'aria compressa che l'ha ferita tra zigomo ed orecchio. A quel punto l'uomo è scappato sul posto le pattuglie della Polizia di Stato e volontari attivati dal 118 con un'ambulanza della Croce Rossa di Salerno che hanno provveduto a soccorrere la donna classe 81 originaria di Potenza poi trasportata all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di via San Leonardo. La donna che potrebbe conoscere il rapinatore è stata già ascoltata dalla magistrato di turno. Sul posto anche il sindaco facente funzioni di Salerno Enzo Napoli per verificare la situazione. Sindaco forse è il caso di parlare di allarme? Non direi, sono degli episodi che si sono verificati in due tornate e questo mi sembra particolarmente strano, incomprensibile per molti versi. Nel senso che fare una rapina molto scoperto in un'agenzia che nella migliore delle ipotesi può avere qualche spicciolo in cassa non si spiega. Soprattutto non si spiega il fatto che si esploda anche un proiettile, credo che non fosse un proiettile, fortunatamente un'arma da fuoco, ma qualche cosa di meno importante. Mi dicevano che la ragazza è fuori pericolo e questo è un dato che ci conforta. Naturalmente quando si verificano fatti di sangue è naturale, ragionevole l'allarme, però non credo che Salerno sia nella condizione di potersi preoccupare per una particolare situazione di rischio. Insomma, siamo una città sostanzialmente e fondamentalmente tranquilla. Si sono verificati l'episodio di ieri e questo di oggi, che però questo di oggi io lo metterei fuori conto, come dire, perché allo stato dell'arte non riesco a capire quale possa essere il motivo di tutto questo. Ma diciamo sostanzialmente è una città tranquilla. Comunque ci sarà un tavolo di ordine e sicurezza dal prefetto sicuramente, no? Sicuramente chiederò al questore e al prefetto di fare una considerazione congiunta, però ecco, io tranquillizzerei gli animi perché insomma a Salerno ci si può ritirare di notte anche le tre di notte senza nessuna preoccupazione, questo è vero. Mi dispiace moltissimo per la ragazza che fortunatamente fuori pericolo era anche incinta e quindi la cosa è veramente inquietante da questo punto di vista. Ma ascoltiamo anche un testimone di quanto accaduto sempre al microfono di Peppe Leone. La ragazza perdeva molto sangue, la signora incinta, poi c'era dentro già un'amica mia, perché noi stiamo qui da tanti anni, e l'ha pulita, però lei era preoccupata più per la bimba, perché è in attesa di sei mesi e quindi viene da piangere. Mio marito ama molto la musica, quindi noi ascoltavamo la musica, però una signora del palazzo a fianco è venuta e ha detto ho stendito un botto e l'ho chiesto anche al portiere, mi è successo qualche cosa? Io ho detto signora ma io non ho stendito niente, poi nel frattempo è venuto un signore del palazzo a chiamarmi, Tina vieni perché è piena di sangue e mi aiuti a pulirla, però non sono entrata dentro perché c'erano già due o tre amiche nostre del vicinato. La ragazza ha detto che è entrato questo signore, ha preso la borsa e teneva una pistola che sembrava una pistola a giocattolo, cioè io pensavo fosse una pistola a giocattolo. Quindi voleva la borsa? Ha preso la borsa ed è scappata, ma la signora era più preoccupata per la bimba che non per la borsa ovviamente o per la ferita che aveva al volto. Avete paura signora? Dispiaciuta sì, è più un dispiacere perché è una traversa un po' buia e il sindaco secondo me dovrebbe illuminare di più, è una zona un po' lasciata a morire. Grazie.